Torna l'iniziativa del Caral Giustizia dal titolo Scoprire e riscoprire Caltanissetta si tratta di visite guidate della città. Così domenica 19 le vie del centro storico saranno raccontate da Vincenzo Falcone, esperto che svelerà i segreti della città di Caltanissetta dal 500 all'800 e sin dalle 10 del mattino davanti alla chiesa di San Sebastiano inizierà il percorso che proseguirà per le vie cittadine fino alla chiesa di Santa Lucia. A collaborare all'evento anche le associazioni Royal Eagles, l'associazione Francesco Amico e il Lions Club. Il Caral estende l'invito a partecipare alle visite a tutti coloro che vorranno a partire dai più giovani. L'evento è gratuito e per chi vorrà potrà approfondire il programma della giornata sulle pagine social del Caral Giustizia Caltanissetta.